dunque qua... intanto tiriamo questo vediamo un po' se servirà qualcosa... aspetta aspetta... no non me lo fa il ponte... no a meno che... ah si... scusate mi l'ho dimenticato di legare da una estremità all'altra... giustamente non me lo fa secondo me così è... a intuizione... no aspetta... no non ci arriva... non ci arrivo lo devo fare così... oh... ah ecco... adesso si... posso slegarlo... ok... e... no... ok la ruota... un po' arruginita... semplice... cerchione... cos'è... ce lo portiamo su... ok... poi siccome... qua ci arriviamo tranquillamente... questo non ci serve più... sleghiamo... ah ecco vedete che serviva... uh... ha avuto un attimo mancamento... si è ripreso... che è... mmm... ah... il contadino col cane... cioè... finora questi ci hanno attaccato... e adesso... dai... lo aiutiamo... perché siamo buoni... ecco... eh... non attaccato... ah no però non è lo stesso... aspetta... uh... no... non mi... eh... ecco... ecco... ah... ci dà un passaggio... oh che gentile... devo... guidarlo... o fa lui... no... fa lui... fa lui... ah... ci ha portato direttamente... al nostro obiettivo... e ciao... ciao... grazie... mmm... intanto li stiamo collezionando tutti... mmm... intanto li stiamo collezionando tutti... mmm... 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 possiamo aprire il libro... la lettera... non importa se veniamo trasportati alla deriva... non saremo mai troppo lontani per esprimere i nostri sentimenti... allora perché è così difficile dare voce alle emozioni... quando sembrerebbe così facile... no... no... non è così facile... mmm... sì è vero... magari può sembrare... ma non è facile... esternare i propri sentimenti... eh... poi se ci si viene incolti dall'emozione... dalla paura... soprattutto... già... beh... proseguiamo... proseguiamo... allora... dobbiamo andare nell'altra stanza... ecco... ecco... poi... eh... era in alto... sì... pare di sì... andiamo... su... ah... ecco... sì... la lettera... ok... e... ha sole invernale... e sarà un sole tiepido immagino... un po' di neve finalmente... oh... un po' bianchi... posto... possiamo andare... vediamo cosa c'è di qua... ah... oh... una pigna... ma qui niente... vabbè... noi ce la portiamo appresso... ah... facciamo un... una mega palla di neve... quindi... per poter salire... io ero andato di là... per vedere... c'era qualche segreto... qualcosa... e invece... no... oh... ok... perfetto... montanari... uh... aspetta... aspetta... eh... ma qui? vale... niente... eh... sapevo che questo ci sparava in alto... se non stavamo attenti... delle alci... aspetta... riusciamo... no... non ci arriviamo... allora... ah... ecco... ok... andiamo su di qua... ecco... beh... immagino che bisogna farlo da questo lato... vediamo... credo eh... anche se... scusate... vabbè... io... no... uh... ma qua... possiamo legare... eh... sì... vediamo... ok... eh... però... no... no... stiamo finendo il filo... non possiamo andare più su... ma a parte che qua... ah... c'era un segreto... io ho saltato così a caso... va bene... va bene... sciogliamo i nodi... e... ah... forse giù di qua... ah sì... oh... ah... ecco... immagino che dobbiamo proseguire... no... e dove dobbiamo andare... scusate... se di qui no... è chiuso... dobbiamo tornare indietro... allora... e andare in alto... probabilmente... vediamo... no... qua non si aggrappa niente... vediamo... uh... aspetta eh... vediamo... allora... rifacciamo... perché prima... non ci arrivavamo fino su... se dobbiamo andare su... questa mi sapeva tanto di zona segreta... infatti c'era... un segreto... ma... ah... ecco... così... ah... possiamo andare dall'altra parte... eh... alcune volte... non... uh... non si capisce bene... se si può andare o no... vabbè... qua no... segniamo giù... ah... qua sì... eeeh... va là... va là... aspetta che torno su... che credete... adesso... ho iniziato... al decimo episodio... a memorizzare un po' eh... eh... allora... eeeh... ciao... allora... dicevamo... ah... fino... qua... sì... poi di qua... no... qua non si va... ora su di qua... qua... più di così... non va... ah... forse là... vediamo... sì... perfetto... no... ci ero quasi arrivato... aspetta... ah... non puoi andare... non puoi andare... va bene... allora proseguiremo da questo lato... oh... però... attenzione... meno mai... c'era la neve... ah... no... si aggancia qua... no... li devi agganciare... agganciare in alto... mmm... a meno che... vediamo... ecco... ecco la... la nostra pigna... aspetta... uh... aspetta... ma c'è altro... qua... qua in alto... no... allora... vediamo... no... eh... eh... ma qua... aspetta... bisogna farla rotolare... per farla diventare più grossa... no... no... in questo caso... no... mmm... aspetta... non c'è un... andiamo... su... vabbè... ecco... così... dovremmo arrivarci... e sto per finire il filo... mi sa eh... oh... ma là che va ancora su... va ancora giù... vediamo se ci arrivo qua... si... ah... devo andare di qua... scusate... aspetta... prendiamo... il ricordo... adesso... fatemi tornare indietro... vorrei capire... no... dove è andata a finire... la pigna... e... soprattutto... perché... uh... basta... ah... forse serve questo... solo per il filo... magari di là... ci saremmo... come dire... ehm... abbiamo finito il filo... non lo so... vediamo... se qua non c'è... adesso... però là in alto... non so come arrivarci... andiamo... oh... proviamo così... dai... perché non lo annodi... non lo annoda... non capisco... ah no... è già annodato... ok... non me ne ero accorto... ecco... oh... oppla... oh... andiamo... oh... no... io volevo esplorare in alto... non fare skateboard... snowboard... ahia... vabbè... andata così... ah... c'avevo il filo bianco... oh... mica male... eh... giusto cambiare un po' colore... ogni tanto... ok... su... ma non c'è... no... no... dai... non si è appeso... aspetta... ecco... ma io faccio... uh... il mio solito... ponticello... no... comunque di là... sembra che non c'è niente... per cui... andiamo di qua... no... non c'è niente... va bene... uh... la madonna... così... così all'improvviso... ma non ci siamo fatti niente... va... però questo è un bel... un bel... un bel... posto... l'ho apparato troppo presto... no... ahhh... aspetta eh... aspetta aspetta... così... ok... alla Indiana Jones... vai... vai... ok... e voilà... qua è scivolata... scivolata pazzesca... eh... no... no... qua andiamo... oh madonna... oh madonna... niente... per un attimo... pensavo di essermi salvato... invece no... aspetta aspetta... esatto... dobbiamo aspettare il momento giusto... che culo però che... no... no... ehhh... qua... ho lasciato andare il dito... non volevo... non volevo... allora aspettiamo... ok... aspettiamo... qua... così siamo più sicuri... ok... ok... ecco fatto... alto filo... ehhh... no... ci sono delle... pareti di ghiaccio... che ci impediscono il transito... ma noi... troveremo una soluzione... madonna... aspetta... così... andiamo su... perfetto... praticamente siamo immersi nella neve... ah... ho capito... aspetta... no... non si aggrappa niente... si aggrappa qua... ecco... altro... snowboard... basta... ho dato brevissimo... aspetta che mi dondolo... vai un po' più giù... ok... perfetto... dai che diventa bella grossa... infatti... mmm... mi attrappare il buco... no... questo tanto non si solleva... forse si... no... e che... devo dire così no eh... ecco... no... più di così non va... qua... ah... ho capito... ho capito... ho capito... ho capito... cosa devo fare... ovviamente... questo qua è un blocco grande... va in un buco grande... questo qua che è un blocco piccolo... ecco... aspetta... aspetta... ok... facciamo un... si è rotto... si è rotto... boh... vabbè... ah... altro ricordo... bene bene bene... ah... devo andare avanti... semplicemente... mmm... devo spingere la palla... aspetta... eccola qua la nostra palla... guardate l'effetto della neve... che bello... mmm... ha fatto bene... ok... uh... altro ricordo... ah... beh... qua ho capito... eh... praticamente stiamo raccogliendomi sei ricordi di una vita... dunque... fatemi vedere qua... no... mmm... devo capire cosa c'è... qua c'è una ghianda... ecco... poi l'idea è che l'ho fatto così... così... e... così... dai... ok... vai... su... forse... eh... vediamo... spingo... sp... sp... ah... ecco... sì... devo mettere la palla di neve nel... diciamo... nel bollitore... ah... siamo arrivati... eh... è stato un livello... semplice... avevamo saltato quasi tutti i segreti... ma vabbè... la stella... eh... piuttosto semplice questo livello... e mo' che manca... mancherà uno credo... quello al centro... forse... vediamo... sole invernale... alcuni giorni sono più caldi di altri... indipendentemente dal freddo che fa... alcune cose sono divertenti... pur essendo ormai vecchie... e... a volte... vorresti che una visita... non finisse mai... eh... sbaglio sempre direzione... qua è tutto innevato... scigliano... arrosto... belle foto però eh... ok... andiamo... credo... penultimo livello... credo eh... devo controllare... presumo di sì... allora... ritorniamo... su... ok... su... 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 no... non suonare... ah... già... qua... devo appendermi... e uno ne ho trovato... su cinque... ok... poi abbiamo... ruggine... mmm... c'è sempre una donna e un uomo... adesso forse... eh sì... è la signora anziana... mi sa... è proprio... proprio... credo sia confermato da questa immagine... credo eh... comunque cos'è... ruggine... il loro rapporto insieme... di lei... questo... ex bambino... poi è diventato uomo... vediamo... ma soprattutto ruggine in che senso... e io mi sono lanciato così... senza paura... aspetta... qua sì... qua non si va da nessuna parte... vero... esatto... qua ci si lancia... questo... ah... va... va tirato... aspetta... no... servirà qualcosa... perché... ah... ok... ah... così forse... tirato... sbagliavo... il lato... proviamo... no... forse è semplicemente animabile... non saprei... ah... mi manca... mi manca il filo... allora... vediamo... no... qui non c'è... non ci sono fili... qua... se tiro... non succede niente... oppure mi sembra strano... sono a un passo... ma manca veramente pochissimo... allora avrò sbagliato qualcosa... mmm... così ci arrivo... no... 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 non ci arrivo... questo ponte lo devo tenere... se no non riesco a salire... mmm... qua niente... possibilità che qua non c'è niente... no... significherà... qualcosa questo... di sicuro... dubito che sia stato messo qui a caso... però ora non si smuove... non si smuove... non si smuove... mmm... quanto possiamo andare avanti... ma proprio manca... cos'è... 30 centimetri al... al gomitolo... maedizione... aspetta... non è che magari l'ho... usato troppo all'inizio... vediamo... no... 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 anche di qua... diventa magrolino... non va bene... mmm... non saprei... veramente... devo saltarci sopra... no... perché tiro da un lato... e niente... vediamo... io continuo a tirare... ma... no... mmm... questo è duro... questo enigma... potrebbe... farmi perdere un po' di tempo... mmm... non... 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 non...